Oh ma questo non è tutto, quando sono tornato a cercarli se ne stavano tutti appesi al soffitto Oh Discord, non ho mai conosciuto nessuno più divertente di te Mi piace la storia di quando hai cercato di insegnare alla tua zampa destra a stare al basso con la sinistra E poi, oh adoro il nostro te del martedì e non vedo l'ora di presentarti la mia amica Treehugger So che piacerei molto anche a lei Come? Treehugger? L'ho conosciuto tempo fa a casa dei brisi Sai è un membro attivo dell'associazione di equestre per la tutela delle creature rare Sono contento per te Sono sicura che tutti insieme ci divertiremo un mondo al Gran Gala Galoppante Oh già, mi chiedevo appunto quando mi avresti invitato, mi piacerebbe tantissimo Oh cielo no, purtroppo io ho già invitato proprio Treehugger Mi dispiace, Discord Ma immagino che tu avrai il tuo invito visto che tu e Princess Celestia siete amici adesso Non l'hai ricevuto? Chi? Io? Eh, probabilmente è andato perso tra la posta Ma non importa niente di grave, come si suol dire Bene, ora devo andare Ma non abbiamo ancora mangiato i nostri pasticcini Credo che per questa volta dovremo fare a meno dei nostri soliti pasticcini Oh oh, l'ho detto davvero Oh, intendevo ciao ciao Ecco le gemme finalmente Dov'è Twilight? È a Canterlot ad aiutare Princess Celestia con il galà Oh, il vostro primo gran galà galoppante Che grande emozione, quante aspettative Non me lo perderei per tutti i gioielli di Equestria Noi andremo al galà! Noi andremo al galà! Noi andremo al galà! Noi andremo al galà! State buone voi due, ora calmatevi Non crediate che sia un'esperienza che vi cambierà la vita Oh, ma guardatela, la mia sorellina è diventata grande Ehi! Sarà la più bella serata della nostra vita! Voilà! Io non credo che queste adorabili, dolci, creaturine così piccine Siano già state invitate al gran galà terrificante, non è vero? Per rispondere alla tua domanda piuttosto sfacciata Verranno insieme a noi in qualità di accompagnatrici Le accompagneremo! Le accompagneremo! Le accompagneremo! Sì, 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 basta! Ho capito, ho capito! Ho vinto! Ti auguro una giornata mega fantasticosa! Ciao Discord, vuoi una torta? Posso farti un elenco di tutte quelle che abbiamo A partire dalle super deliziose Fino alle incredibilmente deliziose A dire il vero, Pinkie Pie Chi porterai al... Cioè, al... Oh, sai che c'è? Ho una fame da lupi! Prenderò tutte queste belle torte! Cosa? Tutte quante? Vuole tutte le torte del mio negazio! Avrò bisogno di un sacco di energie Per ballare al galà Sempre che decida di andarci Questo è ovvio Oh, a proposito, tu per caso ci porterai qualcuno Oh, ma certo! Volevo invitare mia madre Perché sai, lei è la mia mamma Ma non ci vuole venire Perciò ho cominciato a chiedere in giro a tutti Ma non sono riuscita a trovare nessuno Quindi ho deciso di andarci da sola Ma poi ho pensato Ma certo, chi ama partecipare a delle serate E divertirti più di chiunque altro? Mia sorella Maud! Pinkie Pie, per favore, annulla il mio ordine! Non vuoi più neanche una torta adesso? Oh cielo, sei così divertente! A quanto pare oggi tu trovi divertente ogni creatura di Equestria Oh, che maleducata! Treehugger, ti presento Discord Ecco, ci sono mechanic, ci sono missioni Celera Di Chia